Il Ministero del Turismo ha approvato la graduatoria di merito dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione delle proposte di intervento per rilanciare il turismo montano italiano. Sono state ben 326 le candidature pervenute per 16 progetti finanziati. Tra questi ce n'è uno della Regione Abruzzo, dal titolo Abruzzo Equality Experience, i cui proponenti sono il GAL Gran Sasso Velino, Capofila, il GAL Marsica e la DMC Gran Sasso d'Italia, per un importo pari a 2 milioni di euro di contributo ed altri 500 mila euro di cofinanziamento da altri progetti in corso. Esprimono grande soddisfazione i presidenti Paolo Federico, del GAL Gran Sasso Velino, Lucilla Lilli, del GAL Marsica e Alfonso D'Alfonso, della DMC Gran Sasso d'Italia, poiché a vincere sarebbe un intero territorio che per la prima volta riesce a dialogare e convergere su un comune obiettivo di sviluppo, finalizzato a valorizzare l'offerta turistica legata al patrimonio montano. Abruzzo Equality Experience è un ciclo di progetti che tiene conto di alcuni punti fissi, dare priorità alle esperienze, di cui il territorio montano tra l'Aquilano ed il Marsicano è ricco, i parchi, i borghi, le città, gli eventi religiosi e dell'outdoor ed il turismo green presenti sul territorio, dicono i presidenti, sono di assoluto rilievo. Gli attori ed i protagonisti saranno i privati, che dovranno cogliere le opportunità per una crescita delle filiere e creare un effetto leva a partire dall'iniziale investimento previsto dal progetto. Nel tempo dovranno essere monitorati e verificati i risultati, affinché lo sviluppo sia costante e sostenibile nel tempo.